Non è un'esplosso. Adesso è in difficoltà, Alvin, però io spero che sia... Prima dove ti dici. Devo dire che comunque hanno già... Alvin, sta un po' più... Alvin, entrate, 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 entrate... Eh, Alvin, eh, Alvin... Non è ancora scontata. Sì? Non capisco cosa... Alvin, entra, entra! E Alvin! No, io la vedo che apri gli occhi, però Alvin, io vedo che non sto bene. Alvin, fate qualcosa! Alvin, Alvin... Ho detto che prendi la ditta, come... Buonasera! Non vuole uscire! Vada uscire! Non vuole uscire! Vada uscire! Vada uscire! Vada uscire! Per favore! Per favore! Tira la tua! Tira la tua! ragazzi lei comunque continuano a dire di non stoppare il gioco mercedes era molto concentrata usciva la sua mano dicendo non preoccupate va bene ma abbiamo delle riprese che ci hanno fatto prendere un colpo alvin te lo giuro credimi proprio mi sono sentita male siamo i primi a tenerci alla vita dei naufraghi non vi preoccupate quindi avete fatto bene se eravate in dubbio però qua era sotto controllo